Il trend che più mi ha catturato in questa edizione è sicuramente il minimalismo. Ho giocato su stratificazioni di materiali, colori, abbinamenti particolari e spesso ho visto anche un utilizzo di patchwork. Sono Emanuele, sono designer. Il cotone è forse la cosa più versatile che possiamo utilizzare nel tessile. Va bene in estivo, va bene in invernale, dipende tutto dalla costruzione, però rimane sempre uno dei materiali principali. C'è molto minimalismo, però costruito, che prende forma nel layering, quello che può essere veramente stratificare con camicie, maglioni, giacche e poi anche dall'altra parte invece un'eleganza classica, però con tratti un po' più urbani. Il cotone per me è fondamentale e mi piace il cotone americano perché è una fibra naturale e sicuramente di alta qualità. Ciao, sono Massimo e ho un negozio di abbigliamento. Credo che il cotone quest'anno sia la base fondamentale per avere un look alternativo. Sono venuta al Pitti in cerca di nuove tendenze e la mia passione è scovare brand emergenti. Ciao, sono Peter Cardona, fashion editor e lavoro anch'io nel campo della moda. Il cotone è una fibra che si può applicare per le camicie, maglieria, ma anche accessori come cravate, il calzino, che sono sempre degli elementi caratteristici dell'eleganza maschile su cui puntare anche nella prossima stagione. Grande qualità e grande cura veramente del dettaglio.